ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video ok sento che sto facendo la video lezione cioè nel senso che devo aspettare a luna che staccano perché già abbiamo finito però la pertaforma si stacca a luna e stavo vedendo se stavo con il microfono spento perché se no mi sentivo tutti allora ho sistemato sono riuscita a sistemare qua però a dire la verità non ho fatto il video perché ho sistemato mentre stavo facendo la video lezione poi mi sono messo il sistema di questo per andare proprio qui infatti è venuto come una favola qui abbiamo parte la foto di mio fratello la pasta delle wifi io quando ero piccolina e questa altra foto che non so se l'avete mai vista questa penso di proprio di sì però in tutto questo comunque aggiustando qui ho trovato tutte le mie maschere che ho comprato che ancora me le devo fare poi ho fatto ieri ho fatto anche l'ordine dell'Avon e ieri mi è arrivato praticamente ho ordinato uno di questo mi sono arrivati due però io ne ho pagato uno cioè secondo me sono sbagliati comunque io so che sto qua senza far niente la prima maschera io so che ne sono cinque quattro farò i sondaggi e una la scelgo io per farla ora quindi proviamo la maschera insieme allora quella che scegli allora c'è questa questa qui questa che l'ultima che ho comprato poi c'è questo qua all'avvocato poi c'è questa ah di la verità sono un po' indecisa 1,2,3,4,5 però abbiamo questo qua qua la sarà questo che lo so non è che tanto mi piace quindi il resto lo possiamo tutto allora visto che qua fa ancora il computer e a volte si sa io l'audio da solo che bella passazione con la videocamera in 4 a 10 andiamoci a preparare in bagno ovviamente a casa mia si parla sempre soltanto al telefono chiudiamo la porta del bagno anche se non ci sentono allora ok mi sono posizionato l'audio da me in bagno e vediamo cosa dice ovviamente queste maschere io le compro tutte vedete senza avermi un minuto di silenzio ma stavo concentrato 15-20 minuto di silenzio ma stavo cercando quando c'è un po' di minuto di silenzio ma vediamo un po' di minuto di silenzio ma stavo No, sì Ok La che non so neanche io quello che sto combinando Non riesco Ok, 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 ce la sto facendo Ok Questo qui Ok, andiamo Ha un bellissimo odore, sembra un salino Non lo so, durante i po' di rose Ok Andiamo a buttare questo Andiamo a far tempo Alexa, imposta il timer di 15 minuti Ok, così sappiamo perfettamente quanto tempo Chora di passare un salino Ok, vediamo che cosa Non lo so raga di cosa dura Sincero Aspetta Alexa, chi sono? È il mezzogiorno di 35 minuti Due minuti Non so, è il mezzogiorno di 35 minuti Alexa, quanto tempo manca il timer? Il tuo timer è da 15 minuti, restano 13 minuti Ma sono solamente due minuti, raga, che padre Comunque quando non so cosa fare E non parla, è stata la quindici minuti così Ovviamente non lo registerò per 15 minuti Aspettiamo, attendiamo Allora raga, ora ci trasferiamo di là nel bagno Mi affettiamo che aspettiamo per 15 minuti Tanto al finale si sente dal bagno alla stanzetta Quello, il bagno e questo è la stanza Quindi sono molto 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 vicini Allora 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 Praticamente Ieri sono rimasta Piedi con la mia auto E sono dovuto andare a metterla Partire via Sono stata mezzogiornata in mezzo alla strada Anzi a dire la verità Sono stata due giorni in mezzo alla strada Perché Io poi sono andata a prendere la macchina di mio padre Perché ovviamente non ho voluto partire più Poi mercoledì Ehm Nonostante tutto Ehm Ehm Quindi Ehm Comunque La mettiamo La mettiamo a giovedì quando vengo io Ieri Ehm Ora cercherò proprio di pubblicare più video possibili Perché sinceramente Ehm Ehm Alexa Quanto il tempo mi rimane? Ehm In questo momento L'unità è del 52% Ehm Alexa Il timer quando sta? Al tuo timer da 15 minuti restano 7 minuti e 10 secondi Ok è 7 minuti raga Allora facciamo una cosa Ci ridiamo fra 7 minuti Facciamo questo fatto raga Ok raga Allora basta di 7 minuti Andiamo a togliere la maschera Allora Allora mi sono trasferita di qua perché il bagno è occupato Togliamo Ok Allora 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 Allora